E' ormai comprovato che l'apprendimento è strettamente correlato alle emozioni vissute dai ragazzi a scuola. Quotidianamente i docenti sperimentano la presenza di alunni che vivono disagi emotivi legati alle emozioni della paura, dell'ansia, della rabbia. Come possono quindi i docenti aiutare i ragazzi a riconoscere le emozioni e soprattutto a gestirle efficacemente? Il corso ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e didattici operativi e già sperimentati con successo nelle classi. Nei tre incontri cercheremo di dare degli spunti teorici operativi per poter progettare in completa autonomia un percorso di educazione alla consapevolezza emotiva. Le attività potranno essere proposte sia nell'ambito delle discipline curricolari che in laboratori specifici. Tutte le proposte si basano sull'educazione razionale emotiva, un approccio psicoeducativo che ha tre finalità. La prima è quella di aiutare i bambini a diventare più consapevole dei propri stati d'animo, soprattutto quelli spiacevoli. Poi cercare di leggere i pensieri dai quali queste emozioni sono originati e prendere le distanze da quelli dannosi scegliendo modalità di pensiero più costruttive. Si tratta di un'educazione all'autoregolazione emotiva che offre strategie meta emotive come una sorta di salvagenti per apprendere in serenità e star bene con se stessi e con gli altri.